Ciao a tutti ragazzi, qui il vostro Archevi Parla. Siamo qui con alcune patch notes per Vanguard, con una cosa veramente brevissima ma comunque importante. Hanno risolto quello che era il problema per il coltello a spinta, arma corpo a corpo aggiunta praticamente al lancio della season, però non appariva alla sfida o anche se ci fosse stata, non contava appunto tutto quanto il progresso. Adesso la sfida, e ovviamente l'arma, è sbloccabile sia sul multi sia su zombie. Già ci hanno detto quella che era la sfida, ergo 100 uccisioni con un'arma corpo a corpo, mentre stiamo utilizzando schermatura etere. In sera era già una sfida facilissima fin da prima ma con Shionuma è ancora più facile. Utilizzate schermatura etere, abusatene tantissimo con qualsiasi arma corpo a corpo i primi round e fate queste 100 uccisioni per avere l'arma che è molto molto veloce per quanto riguarda il corpo a corpo essendo un'arma corpo a corpo, ma per il resto appunto il problema di cui volevo discutere in questo video è le armi corpo a corpo in generale su Vanguard. Penso che ormai tutti quanti sappiano quanto io sono fissato nel sbloccare tutte le armi, livellarle tutte quante e fare tutte le mimetiche. Beh, l'unica classe di cui non ho finito veramente tutte le armi, anche quelle aggiunte in seguito con season e aggiornamenti, sono le armi corpo a corpo. Ho finito tutti gli sniper, che è stata una tortura, ho finito tutte le altre armi aggiunte, adesso ci sono tipo 10 assalto, 11 mitragliette, tutto quanto facilissimo, tranquillissimo, soltanto un pochino più lungo, anche se adesso con Shionuma molto meno lungo rispetto a prima. Il problema delle armi corpo a corpo, specialmente se confrontate a Cold War, è che qua su Vanguard, per qualche motivo casuale, sono debolissime. Già in generale sono molto lente e i zombie qua sono particolarmente aggressivi, ma è un problema che c'era anche su Cold War, per quanto magari i round alti specialmente in arma corpo a corpo non fosse la scelta perfetta, ma magari fino a round 25 e anche 30, molte armi corpo a corpo di Cold War sono perfettamente utilizzabili, magari non fortissime contro miniboss e nemici speciali, ma per il resto funzionano molto bene. Il problema che si pone qua su Vanguard è che forse la carenza di rarità che c'è su Cold War, che comunque a me come sistema non piace, preferisco Vanguard che l'ha semplificato tantissimo con il Pack-a-Punch, ma porta a tantissime armi corpo a corpo che uccidono fino a tipo a round 7-8, che va ancora bene, e poi tutto in discesa nella catastrofe più totale. Alcune armi sciottano soltanto fino a round 18 o 19, anche potenziate al massimo, e possiamo magari aggiungerci per dire il patto sete di sangue che ci aumenta il danno e ci dà la rigenerazione della salute. Tutto quanto molto bello se non fosse che ovviamente il patto è casuale, quindi va trovato nella partita giusta, mentre stiamo utilizzando l'arma giusta. 99 volte su 100 io lo trovo quando non sto usando un'arma corpo a corpo, mentre quando la sto usando patti totalmente inutili ed è un grosso grosso problema. Molto spesso mi ritrovo a utilizzare tutti quanti i cuori sacrificali per potenziarmi schermature etere o altri potenziamenti, un attimo per salvarmi e prendere la partita, un pochino meno una sofferenza, un'agonia. Questo anche perché a round più alti ci sono due problemi giganteschi, Sturmkrieger e Zaballa. Gli Sturmkrieger è un po' 50 e 50, ci servono anche per alcune sfide, quindi vederli mi fa comodo perché penso adesso lo uccido, mi va avanti con la sfida, le mimetiche e altre cose, mi va benissimo. Su Shino Luma ce ne sono veramente pochissimi, e c'è il problema che c'era anche su Deranfang e Terramanedicta, che di base non sono nemici così forti se non fastidiosi. Con l'armi corpo a corpo sono molto molto forti, e quelli che sono diciamo i pugni, anzi le scazzottate, che ci danno con l'arma è praticamente uno schiaffo di un Megaton, toglie veramente tantissimo e ci spara indietro chilometri e chilometri, e intanto lo Sturmkrieger ci sta rincorrendo per colpirci ancora una volta. E il fatto è che noi stessi dobbiamo andarli letteralmente in faccia per accoltellarli e cercare di fargli danno, e li facciamo veramente pochissimo, anche con l'armi corpo a corpo più potenti, tra virgolette, ci vogliono decine e decine di colpi ai round alti, o anche ai round più bassi quando è leggermente più fattibile, ci vogliono comunque magari 7-8 colpi, è un po' una sofferenza, e se siamo in co-op vi rubranno le kill 10 su 10 sicuramente, se non state comunicando con i compagni e li supplicate di lasciarvi le uccisioni. Oltre questo anche il fastidio degli urlatori, che non è che siano un problema gigantesco, ma possono essere uccisi soltanto in corpo a corpo, e esplodono istantaneamente. Ne uccidete due durante un round speciale, e siete già praticamente one shot, anche con un'armatura, è un grosso problema quando ce ne sono davvero tanti, o avete sfide di ucciderli, diventa un fastidio molto molto in fretta, perché già gli zombie sono aggressivi, c'avete uno Stromkrieger che vi spara, un urlatore che esplode, e il problema finale più grosso, Zaballa. Con un'arma corpo a corpo non potete danneggiarla, se siete in singolo e arrivate al round in cui c'è Zaballa, potete uccidere tutto il resto, ma non lei, adesso che si può colpire anche al corpo, le togliete 4, su quanto ha di vita 10.000, la vedo molto molto lunga. In co-op infatti più volte mi sono ritrovato a chiedere aiuto per gli Stromkrieger, e chiedere aiuto per Zaballa perché non posso danneggiarla, ma anche le altre uccisioni se devo fare le 10 kill rapide, anche soltanto mancare un colpo, fa delle robe allucinanti, becca agli zombie al contrario, fa robe stranissime, tante volte mi capita di mancare uno zombie, averne tanti che mi colpiscono, rimanere mezzo bloccato, o comunque avere il fatto che un'arma corpo a corpo per uccidere uno zombie alla volta ci vuole un pochino di tempo. Qualunque altra arma, anche la più scarsa delle pistole, posso sparare 15 colpi velocissimi e uccidere 7, 8, 10, 15 zombie molto più tranquillamente. Questo non per dire che le armi corpo a corpo devono essere rottissime e straforti per compensare, assolutamente il contrario, però appunto riconfortandole a Cold War, dove ci sono tante armi corpo a corpo e quasi nessuna, a parte le più lente e assurde come magari la mazza da baseball, il maglio o la mazza chiodata, comunque fanno un certo danno decente, non sono le armi sicuramente migliori in assoluto, ma non sono una tortura totale. Su Vanguard invece ho finito soltanto il coltello base, forse l'arma segrettato e la katana. Già lo scudo è qualcosa di totalmente impossibile dato che non può essere potenziato, ma anche le altre armi aggiuntive, che alcune sfide di sblocco sono terribili, non mi ispirano così tanto da utilizzare. Nuovamente l'unica classe che non ho finito al 100% sono le armi corpo a corpo. Ci deve essere qualche secondo me piccola modifica per rendere leggermente migliori. Su Cold War forse per certi versi sono troppo forti, ma è anche divertente utilizzarli e c'è il fatto che è un'arma corpo a corpo, devo andare addosso ai nemici, anche i megaton, a coltellarli, non fa un danno gigantesco, ma è comunque utilizzabile, specialmente fino a round, non dico decentemente alti, ma come ho detto prima, un 25, un 30, è fattibile. Su Vanguard, già sopra il 20, non combinate niente, e quando iniziate a uccidere gli zombie con due colpi, lì è il disastro. Qui ragazzi, per un attimo riassumere tutto quanto, è uscita ovviamente questa nuova arma su Vanguard, quindi può essere sbloccata, e come sempre la sfida su zombie, molto tranquilla. Per il resto continuo a dirlo, queste armi corpo a corpo, è bello che ne aggiungano, e come sempre negli ultimi COD, aggiungono tantissime armi corpo a corpo, ma devono essere decentemente utilizzabili. Sullo zombie di Vanguard, ho sempre dal lancio avuto diversi problemi, e in questo caso, letteralmente preferirei utilizzare uno sniper, e che mi segue in streaming, sa quanto io odio totalmente ogni singolo sniper, ma in questo caso, sarebbe il male minore. Quindi ragazzi, voglio sapere che ancora di voi, sta giocando magari a Vanguard, in questo periodo, che senza XP o più altre cose, è mai rimasto letteralmente zero da fare, ci tornerò forse per finire qualche sfida stagionale, e ho praticamente concluso il battle pass, mi sa che sono al 99 e tre quarti, tipo basta proprio veramente uno sputo per finirlo, sono anche arrivato a livello 200, anche se un pezzo, l'ho fatto su Cold War, giocando a The Dobs. Il video quindi si conclude qui, spero come sempre che vi sia piaciuto, vi sia stato utile, le patch notes originali di Slejammer Games sono qui sotto in descrizione, guardate anche tutti quanti i link per i miei social, tra cui Instagram, Twitch e anche il canale Discord, ci vediamo come sempre, a un prossimo video, un abbraccio, ala.